Il segmento più lussuoso, il classico D, in Italia viaggia molto meglio di quanto si creda. All'interno di questo si posizionano storicamente meglio le vetture con carrozzeria familiare e non è un caso che Mazda abbia concentrato le tecnologie più raffinate proprio sulla 6 Wagon. Solo a lei è stata infatti destinata la possibilità di montare la trazione integrale ed esclusivamente per questa soluzione spunta un solo allestimento, il più lussuoso della Gamma 6. Il piatto forte è quindi il sistema di trazione integrale, si chiama i-Active AVD. L'elettronica monitora costantemente le condizioni del fondo su cui stiamo viaggiando, facendo di conseguenza adottare alla vettura il miglior comportamento possibile. Quando la strada è asciutta e il grip al massimo, il 98% di coppia e potenza sono responsabilità esclusiva dell'asse anteriore. Il discorso cambia su fondi scivolosi e dalla scarsa aderenza. In questo caso l'intelligenza artificiale firmata dagli ingegneri di Hiroshima varia la frazione di potenza tra le ruote anteriori e posteriori, fino ad una suddivisione che può arrivare al 50%. In tutto sono 27 i sensori all'opera, con oltre 200 rivelazioni al secondo, che all'occorrenza vanno ad intervenire su giri motore o sterzo fino addirittura a considerare la temperatura fuori dall'auto. Il motore è il più potente a disposizione in gamma, un 2.2 turbodiesel da 175 cavalli e 420 Nm di coppia massima. Nonostante il peso maggiorato a causa della trasmissione automatica e della trazione integrale, la Mazda 6 Wagon AVD accelera da 0 a 100 km orari in 9,1 per una massima di 209 km orari.